buonasera buon pomeriggio io sono carmelina maurizio sono una docente di lingua inglese e di italiano come seconda lingua lavoro come formatrice sia all'università di torino e di genova sia in tutti i corsi che sono stati attivati su queste tematiche nell'ambito del piano nazionale della formazione dei docenti e a questo proposito noi ci stiamo ritrovando proprio perché la formazione dei docenti ha un'importanza fondamentale non soltanto alla luce di una normativa che ci può obbligare a formarci o meno ma anche proprio per la nostra professione io vi saluto in questo momento saluto tutte colore tutti coloro che sono all'ascolto mi auguro che ci sia una dinamica interattiva come sapete questo corso di tipo e learning prevede la formazione su una piattaforma che consente a me come relatrice di leggere le vostre domande in chat ma non consente a voi di interagire questo problema lo risolviamo semplicemente quando io vedrò le domande in chat e quando vedrò la vostra partecipazione in chat renderò note le domande e eventuali risposte quindi vi invito a farvi vive a farvi vivi a dirmi chi siete e a scrivermi sulla chat che potrò leggere quando vedrò le vostre domande o la vostra le vostre riflessioni e vi dico innanzitutto che lavoro da tempo nella formazione come vi dicevo ma uno dei miei primi campi di interesse negli ultimi 15 20 anni è stata proprio la formazione dei docenti sulla didattica dell'italiano come seconda lingua e anche sulla formazione interculturale ci muoveremo oggi e nei prossimi incontri ce ne sono ancora due è una formazione veloce tutto sommato si danno si lanciano delle sfide si lanciano dei contatti si lanciano delle opportunità quindi vi invito a prendere parte anche con le domande in chat e a farvi a darmi soprattutto in questo momento fatemi sapere colleghi e colleghi che siete nel webinar se mi sentite e mi vedete vedremo un set di slides che poi sarà pubblicato da tecnica e sarà visibile a tutti coloro che hanno partecipato al webinar in tempi molto brevi al termine di questo webinar avrete anche un piccolo test di autovalutazione per avere l'opportunità di fare una appunto personale valutazione sui contenuti e su quello che è stato appreso acquisito vi invito anche ai miei slides uso mettere i contatti e quindi vedrete i miei contatti mi invito anche a contattarmi a livello personale per ricevere altro materiale sull'argomento o anche per chiarimenti contatti per quello che può essere questo tipo di di attività allora io non ricevo alcuna risposta da coloro che sono in chat quindi a questo punto credo di poter cominciare vi invito a cliccare su domande e porre lo spazio le domande all'interno dello spazio non possono anche non essere domande ma semplicemente essere affermazioni saluti ditemi chi siete da dove da quali scuole quale grado di scuola provenite anche quale area geografica chissà mai che questo non ci possa poi mettere in contatto anche di persona quindi io intanto scrivo qui sulla chat i miei contatti che vedrete poi al termine delle slides questa è la mia mail la mail istituzionale dell'università di torino come il mio nome senza punti maurizi tutto attaccato senza punti senza la o del mio cognome chiocciola unito che è l'università di torino punto it vedo che in partecipazione siete parecchi quindi vi pregherei di farvi vivi di darmi soprattutto un feedback sulla partecipazione per chi ha le prime armi con i webinar ci terrei a dirlo prima di cominciare vedrete per chi è esperto quello che sto dicendo si può assolutamente ignorare per chi ha le prime armi sui webinar vedrete che cammin facendo si diventa abbastanza esperti di questo tipo di formazione e vi assicuro colleghi e colleghi che è veramente l'ideale sia per chi fa la formazione sia per chi ascolta e sia per chi si prepara perché si ha tutto il tempo se si ascolta e si segue dal cellulare di fare altre cose se si ascolta e si segue nella propria casa anche di seguire altre attività ma soprattutto si fa in tempi più comodi più rilassati bene partiamo allora come vedete dallo sfondo io presento vi presento un programma di formazione che prevede la didattica dell'italiano dalla teoria alla pratica avremo uno spazio dedicato alla normativa ci occuperemo del quadro socio antropologico e di strategie e metodologie di risorse e buone pratiche quindi buonasera a tutti qualcuno comincia ciao daria buonasera daria è stata la prima coraggiosa che ha iniziato la chat andiamo avanti allora il nostro sipario si apre e vedremo che cosa succede vedrete qui nella prima slides nella prima del set di slides il programma dei prossimi incontri oggi ci occuperemo di pedagogia interculturale e di normativa nel dettaglio qualche cenno di pedagogia interculturale con contributi tendenze anche relative al dibattito nazionale e internazionale e soprattutto vedremo quali sono i documenti ufficiali del ministero dell'istruzione sugli alunni non italofoni nel prossimo incontro ci occuperemo delle competenze di tipo interculturale ma soprattutto di didattica inclusiva e nell'ultimo incontro ci occuperemo di uso delle tecnologie e in particolare della classe capovolta e condivideremo dei materiali pensavo ciao manuela benvenuta benvenuta e mi piace molto il webinar scusate l'inciso perché ci mette nello stesso momento da centinaia di chilometri di distanza tutti insieme quindi sono davvero contenta salve vincenzo vincenzo è docente di lettere presso la secondaria di primo grado e vi dicevo questo è il menu questo è il programma però cammin facendo ci sono delle esigenze desiderate delle richieste vi invito davvero a farmele presenti tenete anche conto colleghe e colleghi che buongiorno buon pomeriggio guendalina guendalina non ci sente io però l'audio ce l'ho al 100% chiedo a tecnica di capire che cosa sta succedendo e chiedo sì tecnica mi dice di verificare l'audio del mio pc cosa che faccio subito scusatemi non credo di avere problemi particolari ma voglio andare a verificare perché non si sa mai allora l'audio è al 100 per cento quindi direi che non ci sono problemi sul mio pc io ho l'audio attivato ditemi solo se mi sentite guendalina ci senti ora ok io spero di sì ciao meri scuola dell'infanzia benvenuta mi sentite io sono col microfono incollato alle labbra il mio computer all'audio al 100 per cento la vista è al 100 per cento quindi ditemi che cosa succede per quanto riguarda l'audio chiedo aiuto al webinar tecnica ma io tecnica ho tutto al 100 per cento quindi non so cosa dirvi provo ancora di più le mie labbra al microfono ditemi se mi sentite adesso buonasera paola dal cpa di padova mi sentite ditemi se adesso è ritornata l'audio buonasera paola buonasera maria buonasera guendalina buonasera vincenzo buonasera manuela buonasera daria mi sentite perfetto grazie grazie allora andiamo avanti perché il menu è abbastanza ricco dicevamo che questo è il menu vedete che si apre il sipario e il sipario ci offre un quadro d'insieme che prevede questo tipo di menu date uno sguardo per favore abbastanza come dire veloce perché a questo punto io posso fare molte variazioni chiaramente per quanto riguarda i diversi gradi di scuola è evidente che avremo delle indicazioni diverse e su questo colleghe e colleghi vi chiedo di farmi sapere anche attraverso la mail che ho già scritto ma che riscrivo per quelli che sono arrivati ora la riscrivo di nuovo e poi la vedrete al termine di queste slides in modo che mi possiate contattare per esigenze più precise allora andiamo avanti io vi sto inviando la mia mail e andiamo davvero avanti con il corso la parte odierna sarà quella diciamo più introduttiva anche di tipo pedagogico innanzitutto creiamo un lessico comune mi fa piacere se su questo ci saranno anche dei commenti il lessico comune sta ad individuare la possibilità di lavorare insieme parlando la stessa lingua cominciamo sono in ordine sparso e casuale cominciamo dal significato di code switching quando si parla di code switching si parla di code switching quando individui che parlano più lingue o individui che hanno bisogno di usare più lingue perché vivono in contesti di multilinguismo poi spiegheremo anche questa differenza passano con fatica non fatica velocemente non velocemente automaticamente non automaticamente da un codice linguistico all'altro chi di voi vive in un contesto territoriale dove per esempio si parlano le lingue locali quelle che un tempo si chiamavano dialetti e sa perfettamente salve 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 roberto buonasera da merano città che amo moltissimo chi usa le lingue locali sa quanto è automatico perché ha cominciato a usarle sin dalla nascita passare da una lingua all'altra su questo torneremo molto spesso proprio perché la didattica dell'italiano come seconda lingua prevede una serie di escursioni di tipo anche teorico ma soprattutto pratico nel andare a vedere come si apprende come si acquisisce una lingua andiamo a fare una distinzione tra plurilinguismo e multilinguismo allora chiedo tra l'altro a chi ha già esperienza in questo campo come sicuramente roberto che ha un master di details assolutamente già molto competente di dare anche il suo contributo colleghi e colleghe io non vi posso mettere in interazione attraverso la piattaforma ma sicuramente possiamo interagire leggendo le vostre domande e quindi promuovendo il dibattito il plurilinguismo è quello che spesso noi definiamo soltanto bilinguismo che è molto comune nei nostri studenti immigrati che usano una lingua nelle comunicazioni familiari e un'altra lingua nella comunicazione scolastica e nelle attività fuori dalla vita familiare noi vedremo dopo di cosa si tratta il multilinguismo invece è laddove vi sono più lingue ufficiali o necessariamente ufficiali nello stesso luogo la valle d'aosta per esempio è una sede di multilinguismo il friuli il trentino tutte le regioni confinanti come ben sapete voi che vivete in queste zone ma anche altre situazioni come la comunità albanese in calabria o in parti del mondo come il canada dove c'è l'ufficialità di due lingue o come l'india o come le filippine o come molti paesi africani che dopo soprattutto nel centro africa dopo la fine della colonizzazione stanno diventando bilingue andiamo a vedere altri due termini sui quali però torneremo tra poco che sono inclusione e integrazione vi chiederei di fermarci un attimo su questo perché intendo che ci sia molta chiarezza di tipo antropologico quando si parla di inclusione si parla molto spesso soprattutto di inclusione quando ci sono bisogni educativi speciali relativi alla diversa abilità ma non si tratta solo di questo inclusione come viene ben siglato sintetizzato dall'inglese è for all per tutti questo simbolo del numero 4 è all dell'inglese è diventato universale per indicare strategie didattiche e promozionali per tutti questo è il riassunto assolutamente una sintesi di un documento abbastanza lungo del ministero dell'istruzione dell'ufficio statistica che ci dice quanti erano gli alunni cosiddetti stranieri durante l'anno scolastico 2015 2016 allora perché parliamo di dati perché quando e lo vedremo tra poco si parla di alunni stranieri c'è molta confusione è molto difficile andare a fare una analisi anche di tipo linguistico perché quali lingue si usano e quante sono il livello della conoscenza è un compito arduo ma in realtà poi nell'attività didattica ci si chiede di fare esattamente di dare delle prestazioni avere una competenza didattica dell'italiano come seconda lingua che è assolutamente si dice in inglese taylorata curvata sui bisogni dei nostri allievi quindi chi sono questi allievi allora il ministero dell'istruzione ci dice che tre anni scolastici fa questi allievi rappresentavano il 10 per cento rispetto alla popolazione studentesca ma attenzione lo vedremo tra poco questo è un dato assolutamente parziale è un dato parziale che ci interessa per avere un margine di riferimento vi invito anche a vedere le due percentuali che sono in questa slide che sono la crescita dello 0,1 per cento del totale e la crescita invece di quelli che sono considerati alunni e alunni stranieri nati in italia mi fermo ancora un secondo su questo dato e poi andiamo alla slide successiva per dirvi che appena apriremo il dibattito e apriremo la formazione di oggi su cosa vuol dire alunni stranieri ci sarà un po più di chiarezza su queste cifre attenzione il panorama di stranieri quindi io da questo momento preferirei parlare di non italofoni cioè non nativi italiani non madrelingua italiani caso mai bilingue e quindi alunni plurilingue il numero è molto difficile da stabilire andiamo a vedere ancora qualche dettaglio su questo da dove vengono e cosa dove stanno in quali gradi di scuola e quali sono le percentuali rispetto al grado di scuola vedete che i dati molto alti sono sostanzialmente alla primaria la secondaria di secondo grado anche questo colleghe e colleghi è un dato del tutto parziale che ci illustra però una situazione significativa per esempio nelle vostre aree geografiche e nelle vostre esperienze scolastiche sarebbe interessante scoprire di che cosa parliamo per esempio di provenienze per esempio di alunni appena arrivati adesso li vedremo tutti un quadro d'insieme ci dice che possiamo andare a lavorare su questi dati parziali e totali andando a capire meglio soprattutto le provenienze guardate anche questo è un dato diciamo non recentissimo non so se vi è mai capitato di consultare questi documenti del ministero poi in fondo alle slides nelle referenze troverete i documenti di cui ci stiamo occupando il ministero l'ufficio statistiche del ministero dell'istruzione pubblica periodicamente un aggiornamento su questi dati ma ovviamente non sono da aggiornamenti in tempo reale questa tabella che illustra la provenienza degli alunni stranieri rispetto ai paesi di maggiore provenienza è abbastanza stabile come vedete al primo posto si trovano la romania e l'albania quindi l'area slavofona seguiti dall'area arabofona del marocco a cui si aggiunge la tunisia più in basso mentre gli altri numeri sono leggermente più bassi rispetto alle percentuali possiamo considerare anche la polonia di area la dova e l'ucraina di area slavofona di ara arabofona marocco e egitto e tunisia e ovviamente la cina quindi siamo in un ambito assolutamente difficile da descrivere con tutta una serie di caratteristiche che affronteremo nella parte pratica nelle risorse pratiche filippine quanti di voi per esempio si sono trovati ad avere alunni e alunne filippine con i quali usate l'inglese perché la filippine sono uno di quei paesi del mondo dove l'inglese per i motivi legati alla storia alla colonizzazione è la seconda lingua la seconda lingua ufficiale idem vale per l'india e il bangladesh dal perù altro paese insieme all'ecuador che non è in questo elenco ma che viene subito dopo abbiamo una serie di numeri significativi per quanto riguarda gli alunni ispanofoni e poi andiamo allo Sri Lanka e anche al Pakistan che hanno universi culturali abbastanza difficili da categorizzare in merito alla provenienza delle lingue è chiaro colleghe e colleghi che la didattica dell'italiano cambia rispetto a quello che agli obiettivi che ci poniamo anche in base alla provenienza dei nostri allievi e delle nostre allieve quindi mi piacerebbe sapere quali sono nelle vostre aree geografiche le maggiori provenienze per quanto mi riguarda io abito in Piemonte e nella scuola dove lavoro come docente a tempo indeterminato ci sono 40 nazionalità diverse che rispettano perfettamente questa tabella quindi mi farebbe piacere anche perché tra l'altro l'italia è fatta a spot per cui per esempio nel genovese in liguria ci sono molti quadrenni e in altre zone ci sono molti polacchi e anche in Piemonte ci sono delle aree polacche va bene ora vedremo questo documento che poi appunto è quello da cui ho preso alcune delle informazioni che erano in queste slides che il documento che ho citato nella tabella iniziale questo documento del ministero dell'istruzione è abbastanza recente come ripeto non possiamo ok maria grazie marocco e romania provincia di torino chissà dove sei magari ci siamo già incontrate in qualche corso io lavoro proprio a torino città e allora stiamo per vedere il documento che poi quando avrete le slides se volete ve le invio anche per posta o le condivido su drive se avete un dominio gmail e vedrete che è un documento corposo dal quale si possono ricavare molte informazioni utili il documento che vedete e stiamo per vedere è appunto quello dell'ufficio statistico del ministero dell'istruzione del 15 dell'anno scolastico 15 16 spesso tra l'altro credo che questo lo sappiano abbastanza tutti quelli che sono in questo momento all'ascolto anche la caritas pubblica annualmente un ricchissimo volume anche online sulla provenienza le caratteristiche sociali economiche e culturali degli immigrati anche alcune associazioni che poi citerò il documento si aprirà intanto noi andiamo avanti con le slides non voglio farvi perdere tempo e quindi questa tabella riassume questa slide riassume quello che vi dicevo allora vorrei che adesso andassimo nel dettaglio vi prego di essere molto attente e attenti perché questo documento è il documento che è stato pubblicato dal ministero dell'istruzione quando a un certo punto ci si è chiesti ok Carmela, Lucca, bambini provenienti dalla Romania, Marocco, Cina e Filippine tra l'altro Carmela sarò a Lucca la prossima settimana quindi sentiamoci magari anche vediamo e dicevo ci si è chiesti ma chi sono gli alunni stranieri ecco qui allora io vi metto sullo sfondo la prima serie di indicazioni cominciamo a dire che sono alunni con cittadinanza non italiani quelli che anche se sono nati in Italia hanno entrambi i genitori di nazionalità non italiana questo tipo di definizione è quella che ci riguarda diretta rispetto alla posizione burocratica di questi bambini e queste bambine perché riguarda la loro posizione rispetto alla cittadinanza dei genitori in questo senso è anche molto interessante il discorso legato all'uso della lingua di tipo domestico all'uso della lingua non domestica quando si hanno entrambi i genitori o un genitore o un nucleo familiare che ha una lingua completamente diversa perché si tratta di immigrati che non sono nati in Italia ci sono dei contesti culturali e linguistici significativi alunni e alunne con l'ambiente familiare non italofono si tratta di bambini e bambine che hanno genitori nuclei familiari dove le conoscenze della lingua italiana quindi in questo caso la lingua 2 sono di uso comunicativo sono spesso non legate alla scrittura e alla lettura ma solo al parlato e spesso si tratta anche di nuclei familiari che hanno un background culturale di provenienza di livello medio basso su questo faccio un apro una piccola parentesi la chiudo subito l'immigrazione cinese che è iniziata in Italia alla fine degli anni 70 che si è poi diffusa a macchia d'olio in quattro aree principali milano roma prato e la zona al confine tra la provincia di cuneo e di torino questi grandi nuclei provengono maggiormente non voglio generalizzare del tutto provengono maggiormente da nuclei familiari con livello socio culturale quindi di istruzione medio basso questo ha creato molti problemi di comunicazione che vedremo negli incontri successivi come è possibile affrontare tra gli alunni non italofoni quindi gli alunni stranieri il ministero ci dice ci sono i minori non accompagnati i minori non accompagnati sono alunni provenienti da altri paesi che si trovano in Italia privi di assistenza quindi privi di spesso situazioni familiari ospitati in comunità per questi bambini e queste bambine per questi ragazzi e queste ragazze vi sono spesso delle misure speciali ma soprattutto per quanto riguarda la didattica e l'inserimento bisognerà tenere presente anche non solo fenomeni di abbandono e quindi di comunicazione molto limitata se le comunità dove vengono accolti non conoscono le lingue di partenza ma anche perché spesso dietro ci sono dei traumi e quindi ci sono attività compensative personalizzate che vanno considerate e quali sono gli altri alunni stranieri colleghe e colleghi secondo voi ne abbiamo visti tre tipi proviamo a pensare chi sono gli altri provate a dirmi in chat se avete idea secondo il ministero chi sono gli altri quando svolgo questi corsi in presenza e vi sono molte sorprese tra i colleghi e le colleghe che spesso identificano ma tutti noi lo facciamo identificano l'alunno straniero con per esempio il bambino o la bambina i cui genitori non sono italiani oppure bambini e bambine nati in Italia ma che hanno uno dei genitori non italiano ma per esempio pensiamo ognuno di noi a un esempio il bambino o la bambina nati in Italia che hanno un genitore italiano e un genitore non italiano sono alunni stranieri bambini e bambine che hanno situazioni di passaggio in Italia e adesso li vedremo per esempio bambini che provengono dall'adozione internazionale bambini figli come dicevamo di coppie miste tra questi che provengono dall'adozione internazionale spesso non ci si sofferma rispetto ai percorsi linguistici ognuno di noi sicura di tutti noi e tutte noi che siamo qui in questa formazione e vi saluto di nuovo per quelli che sono arrivati dopo e che invito a commentare a dibattere a discutere e anche a criticare in chat tutti noi abbiamo almeno un'esperienza rispetto a ciascuna di queste categorie pensiamo anche ai bambini rom sinti e camminanti e a tutti coloro che appartengono a situazioni di nomadismo in questo senso siamo arrivati a definire ben sei categorie le coppie miste quelle che vi dicevo prima per esempio a me sta venendo in mente una coppia di amici il papà è albanese la mamma è italiana il bambino parla solo l'italiano ormai frequenta che io ricordi la seconda o la terza della scuola primaria i nonni albanesi che vivono in italia col bambino parlano in albanese gli zii che vivono in italia col bambino parlano in italiano